Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Vieni qua! Non me ne figa niente! Sono qua! Grande Gianni! grande Gianni sei il migliore fa che cappello oggi eh cappello torquato boh metti cazzo che sono tipo mangiare una pita maccio la chiesetta cosa farai a Miconos cosa farò a Miconos rosso ferruca boh ci divertiamo facciamo queste rate dai niente rispondiamo chi è si con chi sei fidanzato con Martina un'altra cosa finta per fare le visual quindi scusami il bacio di la donna pepe in camerina si ha solo sulla guancia per salutarci andare a casa una dall'altra non era sulla guancia vai Simo ma te non c'eri no comunque no no questa è una gag alla Steven F adesso va ora va prova 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 ok non era per capire no e niente guarda che io mi ho portato qui mi ha invitato lui tu vuoi male però assoluta la guardia 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 non è iniziare a fare le kakuro ti spiego lui poco però le ha anche lasciato le dico quando c'è una persona rilevante inizia a fare le kakuro si a tu discapito vuole si esatto infatti ho portato lui perché tu mi devi il culo ti dico solo questo mi devi la vita se no stavi ancora lavorando a fare le kakuro e lo sai quindi se si io ho acquistato il mac ma l'avevo acquistato io ovviamente fortissimo hai guardato tutto il tempo minchia vorrei poggiarlo io non c'è no è la battuta è la battuta no si ma tempi oscuri comunque dipende qualcosa l'altra volta quando si parla vedi adesso l'hai fatto toglierò toglierò faremo subito aspetta aspetta fiammi un attimo sei il primo d'italia ti faccio ti faccio ti faccio vedere ti faccio ti faccio siete pronti lei è una scuola rosso è il rosso rosso è il rosso rosso è il rosso ciao 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 clara prima si è scappata perché sono scappata perché ho visto la situazione un pochino non guadarmelo dai comunque visto che adesso sono è l'ora della Lambo il consiglio il premio ha vinto lui e quindi non mi dice ma ah c'è il preservativo lui vittorio no no questa cosa è strana per me c'è star tutte le strane infatti che mi metto le scarpe un po' con le calze guarda Stile io c'è un altro regalino per te grazie se riesci a lavarmene poi mi la dà settimana prossima ok c'è freddo poverino si no no è freddina si sente cavolo no rosso voglio ti lascio rosso non è normale ok ok è tipo quando vedi quelli con le giotte no si no si no si si no 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 vieni vieni tu sei menato sei giorni non sei adesso siamo ancora qua ma non ti entriamo non è mio guarda ora i miei braccii mi hai fatto un po' con i miei braccii non mi fa fatturare un milione di euro rosso mi sto zuppando la schiena no 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 però è su giù wow oh oh lo faccio Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Allora, non so dove far dire, comunque, ehm... Che giro parla lei a me? Si, Diego, Diego. Oh, a me stava arrivando! Cosa faccio? Non ti rimessi, c'hai, no! Alex, no! No, allora, scusate, 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 scusate. Mettetemi tutti e tre saluti, mettetemi tutti e tre saluti, non mi cazzo. Si sente così di testa, i piedi di qua. Perfetto. Si, così, così, così. Stop. Oh! 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 Rosso! Non me lo gioca adesso, ragazzi. Non me lo gioca adesso. Quando volete potete sbloccare la carta a peli a forma di cuore. Sì, quando voglio io. Sì, mentre c'è la partita, ovviamente. Cioè, mentre gioca. Va bene. Come ti chiami? Marta. Irene. Cosmo e banda. Scusate, 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 scusate. Vantaggitori. Allora, se sono i vantaggitori, ti posso mettere un desiderio, qualsiasi desiderio che tu voglia. Esatto. Però che non riguardi la partita, sennò sia vantaggiato. Ah, scupiamo! Non dovevi dire. Vantaggitori. Senti! Non ci credo. Boomer. Cioè, ma secondo voi... Oh, 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 oh! A me mette paura, ve lo giuro. Eccomi sono arrivato qua, Alexi? Ciò? Champagne? Arriva lo champagne, arriva lo champagne Allora Marti? L'Aigos non l'hai chiesta, Alexi sei un coglione Fanno due telefagli, si 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 Sto facendo stretching Scusaci, mettetemi tutti e tre saluti, mettetemi tutti e tre saluti per me in cazzo Vi state comportando una merda Io no, l'ho fatto un cazzo No Io non l'ho fatto, io non l'ho fatto Sì l'ha fatto papà l'ho visto, l'ho fatto, l'ho fatto Te lo giuro su mia madre Io avevo solo paura che mi pecchiasse Allora, un conto, la che hai con un conto è sgravarla La daresti? C'hai capito? No, 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 no Io non sono tipo da sesso al primo appuntamento Ok, va bene E anche io E anche io E perché lui non ha nessun appuntamento? No, no Io invece una ragazza la porterai all'appuntamento La metto tipo sul sito di donare E poi ti metto No Che, che, che Se ti dovesse Bellissimo Se ti dovesse portare Se ti dovesse portare a McDrive E poi mangiare lì al parcheggio Tutto nero? Ok 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 Ok